buongiorno ed ecco finalmente è arrivata l'xbox x a casa a strade adesso faremo una bella unboxing ragazzi a ok apriamo questo bel pacco con una mano mia è difficile però ci cerchiamo ed ecco qui power your dream apriamo tutto uno due questo ed ecco spacchettiamo un attimino scusate perché a prendere la colonna solo ma che bello guardate qui favoloso finalmente di presenza aspettate ok ragazzi abbiamo spacchettato tutto ed ecco finalmente la nostra bellissima fantasticissima xbox x e dentro c'erano filo di alimentazione ovvio perché sono come si mette questa cosa e il cavetto hdmi non so se l'ho detto giusto e niente popò di meno del popò il fantastico come dicono ergonomico bello pure al tocco questo qua si consumerà sicuramente però ed eccolo qui nel tutto sto splendore adesso accenderemo questa xbox quindi ragazzi prima di guardare tutto questo video spolliciate iscrivetevi al canale e attivate la campanella dai max astralex xbox x ok ecco finalmente accesa xbox vi appare questa scritta che adesso andremo a configurare ed eccola qui accesa xbox con la sua bella ventolona verde che ha dopo dopo andremo a configurare questa cosa dall'app e poi ci vediamo dopo e poi ci vediamo dopo